Quando ho acquistato questa piccola casetta, i ragazzi sono venuti lì e hanno cercato un'amicizia e poi pian pianino è diventata come per modo di dire una casa sociale, non ufficiale, privata. Sono venuti lì, hanno preso un caffè e hanno detto domani io mi taglio la gola. Poi è diventato subito un punto di riferimento per i giovani e anche per quelli che avevano problemi. Also in Europa haben wir überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Hier ist das Leben hart. Wenn wir hier in Urlaub herkommen, dann ist Sonne, dann sind Eisberge, ein Urlaubstraum. Aber mit dem Eis kann man nicht essen. Nia Punga. Nia Punga. Nia Punga. Nia Punga. Gio. Nia Punga. Nia Punga. Nia Punga. Sì. Il mio medito allerga fregi diятно. exterminatoria ergo tutti non è duro. In Sì. Nia Punga. To cheplays他的 Beltesco dan reso quando tornare insieme ai i portati.